Doppia festa lanzada negli scorsi giorni per la consegna dei bonus che il Comune ha destinato ai neonati, ai nuclei familiari e ai bambini che frequentano la scuola dell'infanzia. 30 assegni in totale per un valore complessivo superiore ai 20.000 euro. Un aiuto alle famiglie a evidenziare l'attenzione riservata alle persone nelle varie fasi della vita da parte dell'amministrazione comunale. Una gioia condivisa è stata il ritorno della cerimonia di consegna in questo 2023 dopo le restrizioni imposte dalla pandemia. Siamo stati molto felici di invitare di nuovo bambini e adulti a conclusione di questa iniziativa relativa al 2022 per incontrarli e per consegnare loro i bonus, sottolinea il consigliere comunale Cristian Bergomi. Come Comune siamo impegnati a sostenere le famiglie sia attraverso questi bonus sia nei momenti di difficoltà, non si tratta soltanto di un aiuto economico, ma della vicinanza e dell'attenzione nei confronti dei loro bisogni in termini di servizi e iniziative. I bonus sono soltanto una parte delle misure che adottiamo annualmente, alle quali si aggiungono gli aiuti alle persone che si trovano in uno stato di bisogno temporaneo, che vivono condizioni di fragilità e le iniziative rivolte agli anziani, come il pomeriggio del pensionato che abbiamo ripreso. Per i 19 bambini della scuola dell'infanzia sono stati destinati 360 euro, inoltre sono stati consegnati 1000 euro a ogni bambino nato, 8 in tutto, e 2000 euro a ognuno dei tre nuovi nuclei familiari.